ciao a tutti mi è stata chiesta una cosa che credo possa essere interessante per tutti quanti spesso la cosa peggiore che può succedere a un disegno colorato quando lo stampiamo è che venga troppo scuro uno dei metodi più facili con i quali capire se un colore sarà troppo scuro oppure no in stampa è guardare la quantità di nero che c'è nel canale nero delle nostre immagini in ciano magenta giallo nero quindi cm yk tuttavia c'è una cosa da capire però se noi lavoriamo in rgb e in questo caso ho aperto questa immagine in clip studio paint proprio perché clip studio paint è un programma che non permette di lavorare in cm yk ma permette solo di eventualmente convertire alla fine l'immagine in cm yk è un programma in cui lavoriamo in rgb se io ho un dubbio per esempio questo marrone qui è molto scuro lo pesco con alt click vedo qui che è un colore molto scuro molto probabilmente conterrà diverso nero se vado negli slider del colore a vedere questo colore in rgb è rappresentato così ed è così che è salvato nel file però mi è possibile vedere anche gli slider in cm yk e dico accidenti c'è l'ottanta per cento di nero quasi sicuramente è un colore che in stampa sarà molto scuro ma anche questo qui sul volto per esempio 40 per cento già qui capita spesso con i colori marroni molto scuri e brillanti però attenzione questi valori qui non sono scritti nel file cioè questo 47 per cento di nero non è un valore scritto nel file perché il file in rgb questo valore dipende esclusivamente dal profilo che io ho scelto nelle impostazioni colore di del mio software quindi adesso per esempio il mio profilo rgb adobe il mio profilo cm yk è questo il fogra 39 andiamo a vedere la stessa cosa in photoshop in photoshop di nuovo questo è lo stesso file è un file in rgb come potete vedere quassù e se io vado a vedere i miei slider cm yk mi dicono che qui in questo colore che avevo pescato anche di là c'è il 48 per cento di nero che è più o meno quello che c'era anche di là se adesso qui apro la finestra delle impostazioni colore e cambio da fogra 39 a appunto per esempio il mio questo profilo senza nero che ho creato apposta per far vedere la differenza vedete che lo slider adesso segna zero per lo stesso identico colore quindi questi valori anche quando voi pescate un colore da qui e dite a mi piace questo bel fucsia vi dice a questo non può essere rappresentato questo è il colore più vicino rappresentabile l'ho andata a pescare e vedete qua k uguale a zero è perché sto usando questo profilo in questo momento che è il profilo senza nero ma se io vado a cambiarlo e ne pesco un altro quindi per esempio torno al fogra 39 clicco ok e vado a pescare il colore qui il nero generato di nuovo sarà diverso a seconda di quello che vado a scegliere perché l'informazione di quale profilo cm yk usare non è scritta dentro il file perché il file in rgb è scritta dentro le impostazioni del vostro programma quindi fate attenzione a quali sono le impostazioni del vostro programma perché è quello che vi fa vedere un colore piuttosto che un altro in cm yk in queste barrette quindi adesso che ho cambiato il profilo colore nelle mie impostazioni appunto ecco che all'improvviso questo colore che prima col profilo di prima aveva zero adesso ha di nuovo 46 e non ho cambiato niente nel file ok quindi filing rgb contengono solo informazioni rgb se voi leggete qualcosa qui cm yk leggete qualche valore e sono valori di anteprima di quello che verrebbe se voi convertiste l'immagine attraverso la funzione di conversione insomma cioè se voi faceste image mode cm yk se volete sapere se questi valori sono sensati o no voi dovete fare attenzione a cosa avete in questa finestra alla voce cm yk vale la stessa cosa anche per clip studio paint dove nelle impostazioni delle preferenze avete un certo profilo ciano magenta di base e in più avete il profilo nel menu view preview settings potete scegliere un profilo di anteprima ancora diverso o uguale a quello di prima e vedete tra l'altro dietro come i colori cambiano cioè adesso ho l'anteprima fogra 39 posso fare un anteprima a w rgb vedete che i colori cambiano leggermente anteprima s rgb ancora diverso quindi questi sono il un anteprima che vi viene mostrata ma che non cambia assolutamente i colori dentro al vostro file quindi vi consiglio se lavorate in rgb come è la cosa normale fate comunque caso a qual è il profilo cm yk se volete avere un'idea dei colori che state usando nel momento in cui li pescate nel nel vostro selettore colore se queste cose vi sono poco chiare vi consiglio a questo indirizzo potete trovare un tutorial in cui spiego le concetti base di quello che serve a noi a che dipingiamo e coloriamo col computer i concetti base della gestione del colore li trovate nel mio gamroad gamroad.com barra malisane trovate diversi tutorial tra cui appunto questo che riguarda le basi della gestione delle immagini a colori per chi fa arte digitale grazie mille e alla prossima